Grande agonismo tra Capistrello e Acqua e Sapone, che nella quarta giornata di ritorno del campionato di eccellenza si dividono la posta in paglio con il punteggio di 1 a 1. La cronaca si apre al quinto con una bella conclusione di Minutolo, deviata in angolo da Croce. I padroni di casa rispondono al nono, D'Amico fermi l'uscita di Gaetano, ma sulla ribattuta Lepre c'entra solo il palo. Al sedicesimo Del Gallo tenta un colpo dei suoi, ma Croce è attento e manda il pallone in angolo. E il preludio al gol, sugli sviluppi di un corner Buonafortuna stoppa la sfera e di prima intenzione lascia partire. Un siluro che termina la sua corsa in fondo al sacco. Il replay è d'obbligo, Acqua e Sapone in vantaggio. Il Capistrello risponde rabbiosamente, ma Lepre, da pochi metri, spara alto di testa. Lo stesso Ranto è protagonista sul finire del primo tempo quando coglie il secondo legno di giornata, ancora con un'inzuccata. Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. Subito arrembanti i padroni di casa, ma Franchi esalta solo i riflessi di D'Amico. Estremo difensore ancora protagonista al quindicesimo sull'enesimo stacco aereo di Lepre. Nella fase centrale del secondo tempo la gara si innervosisce. Prima Mister Torti viene spulso per proteste e poi è Del Gallo a finire sotto la doccia per una presunta gomitata a De Meis. Ma è sul finire di gara che si concentrano le emozioni. Al quarantesimo Lepre colpisce il terzo legno della sua sfortunata partita, ma sul proseguirsi dell'azione avrà modo di rifarsi. Piccioni lo stende e per Urstini di Pescara è calcio di rigore. Dal dischetto l'attaccante marsicano sigla la dodicesima rete stagionale. Il bomber locale nel recupero ha tra i piedi la palla della vittoria, ma ancora D'Amico gli dice di no. Si conclude così il match al comunale di Capistrello. L'acqua e sapone conquista un buon punto in chiave salvezza, mentre si interrompe la striscia di vittorie consecutive dei marsicani. Il bicchiere va visto sempre mezzo pieno, quindi un punto guadagnato per come abbiamo finito. Se fosse finita la partita al primo tempo probabilmente non a zero sarebbe stato giusto, ma nel secondo tempo chiaramente noi abbiamo sofferto sia a livello fisico e poi abbiamo sofferto tremendamente quando è stato espulso del Gallo e ci siamo ritornati in dieci. Però noi eravamo nella condizione di poter comunque giocare una partita a viso aperto. Il primo tempo l'abbiamo fatto, nel secondo tempo loro ci hanno messo grande pressione e l'espulsione del Gallo ha chiaramente rovinato tutti i piani che avevamo per cercare almeno di arginare. Nelle ripartenze non abbiamo avuto grande efficacia nel secondo tempo, però alla fine è un punto guadagnato perché grazie a Dio Christian è stato determinante come tanti altri ragazzi. Mister Torti dopo quattro successi consecutivi arriva a questo punto in casa contro l'ultimo in classifica l'acqua e sapone. Capistrello un po' sfortunato ha colpito anche Trelegni. Un po' sfortunato è dir poco perché oltre a Trelegni sono stati anche clamorose occasioni, non buttate dentro, un po' per bravura del portiere, un po' per errori nostri. Loro ci hanno fatto quel tiro in porta, di fatto è un tiro prima del gol che ha parato Croce e di fatto poi non hanno mai tirato in porta. Sapevamo che era una partita difficile perché giustamente loro hanno una classifica deficitaria, però io ripeto al secondo tempo in partita a Moda la mia squadra non posso dire nulla perché abbiamo creato almeno 10-12 palle gol. Per cui l'hai detto tu stessa, abbiamo preso Trelegni a portiere battuto, per cui va bene così. Quanto ha potuto incidere l'arbitraggio soprattutto nel primo tempo? Ma io degli arbitri non parlo mai, però effettivamente qualche situazione la volevo rivedere anche dentro l'area loro, c'è stato qualche episodio un po' da rivedere, però l'arbitro fa parte del gioco, cioè è inutile adesso appellarsi al fatto dell'arbitro. L'arbitro può sbagliare come sbagliamo noi, per cui noi dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto una buona partita. Non era semplice perché sapevamo che è una squadra che in tutte le gare se la sono sempre giocata, però sono molto soddisfatto del secondo tempo della squadra dove la squadra sicuramente avrebbe meritato molto molto di più.